Augusta, violenza inaudita, detenuto e aggredito sei agenti di polizia penitenziaria. Nuova aggressione nella casa di reclusione di Augusta, un detenuto e aggredito sei agenti di polizia penitenziaria, tra i feriti anche il sindacalista Sebastiano Bongiovanni. Tre agenti hanno subito lesioni per prognosi di tre giorni, uno con sei giorni, mentre un sesto ha subito ferite giudicate guaribili in 40 per la rottura dello scafoide. Nello Bongiovanni, ennesima aggressione per una situazione ormai insostenibile, grande gesto ha fatto il vice provveditore di Palermo che ha chiamato tutti i poliziotti per accertarsi in prima persona come stavamo fisicamente ed era molto dispiaciuto dell'accaduto. Viviamo un momento difficile, prosegue Bongiovanni, quasi in tutti gli istituti, ma alla casa di reclusione di Augusta a nostro avviso non ci sono più le condizioni per poter lavorare. Il SIP si augura e spera ancora in un intervento risolutivo e mi auguro che questa ennesima aggressione serva non per punire la polizia penitenziaria ma per difenderla.